Ciao a tutti e benvenuti sul canale, anche oggi vi parlo di un video che non ho girato in questa occasione qui sono nel mio solito campo volo, tra poco farò un voletto con il mio autelivo ma oggi vi voglio portare a Brisighella il video che vedrete dopo la sigla riguarda un percorso, un trekking molto semplice ma piuttosto lungo, si tratta circa 13 chilometri perché noi l'abbiamo allungato il percorso originale era sui 7,5-8 chilometri il dislivello è intorno ai 100 metri quindi non è un percorso molto faticoso però è molto affascinante perché attraversa tutto il territorio attorno a questo borgo medievale Brisighella che è meravigliosa e attraversa le coltivazioni di olivi ma non solo, avremo fruttetti di vario tipo perché durante il cammino incontreremo moltissimi cachi delle coltivazioni di kiwi, pere, chi più ne ha più ne metta insomma è veramente una bellissima passeggiata in mezzo alla natura molto varia, con dei paesaggi incredibili perché si va anche in quota e come ho detto, dopo la sigla A presto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.